Ciao, sono Yugi Muto, sono stato risumato dalla Konami perché avevano finito i soldi per quest'anno, quindi dovevano trovare un modo per fatturare. Ok, ok, lo dico. In descrizione trovate anche il link di Magic Corner nel caso voleste comprare questi cofanetti del 25esimo anniversario. Per favore, posso arrivare adesso le mie carte? Grazie. Yugi e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, finalmente, andremo a fare un viaggio nel tempo indietro di 25 anni. Andremo ragazzi a spacchettare i primi 6 set di Yu-Gi-Oh! Ovviamente quelli che sono usciti in Italia. Quindi niente LOD, PGD o MFC. Peccato. Però comunque abbiamo tanti altri set molto interessanti da poter sbustare. Ovviamente prima di andare a vedere e spacchettare il prodotto, vi ricordo che se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Considerate che però compro tutto, quindi mandatemele lo stesso, anche se non avete carte incredibili. Detto questo, ragazzi, è arrivato e adesso andiamo ad aprirci la nuova collezione leggendaria. In tre pero. Allora ragazzi, io questo prodotto l'ho demolito nell'ultimo video, comprare o no, perché comunque, secondo me, ha dei difetti. Però, vi dirò. Dopo aver visto le Secret Parallel, diciamo che ho detto, ma, carine. Ce posso sta? Infatti le ho comprate tutte, se avete visto su Instagram. So di essere un'ipocrita sotto questo punto di vista, ma sticazzi, nel senso, ve l'avevo già detto anche nel video, se non sbaglio, che comunque a me, nel pratico, piaceva. Avevo dei dubbi solamente sulla tipologia di stampa e, infatti, confermo quello che ho detto. Però, comunque, all'interno di questi pacchetti ci sono reprint utilissime per GOT e, comunque, chi vuole collezionare i vecchi set senza spendere un rene, questo potrebbe essere il modo migliore. Considerate poi che queste espansioni usciranno ad agosto, se non erro, anche in formato box. E quindi un'espansione come Lob, che attualmente bisogna spendere una cosa come più di 1000€ per poterla fare. Con le reprint ve la potete fare con, boh, penso 150€ neanche. Andiamo adesso ad aprire anche gli altri e poi andiamo a spacchettare. Allora, io partirei con le espansioni più vecchie e poi andrei all'ultima, che è Invasione del Caos. Allora, procediamo. Ragazzi, io vi dico, Lob non credo di averlo mai aperto in vita mia. Vi dico, sinceramente, non so quale di questi pacchi io, 20 anni, 20, 25 anni fa, ho mai sbustato. Nel senso, qualcosa, sono sicuro, tipo Invasione del Caos, come anche servito dal faraone. Però la leggenda del drago bianco occhi blu, forse l'ho cannato. Adesso, ragazzi, non ricordo, sono passati, tipo, troppi anni. Andiamo con la prima, la bestia grigia. Che artwork de merda. Sono talmente brutti che fanno il giro e diventano belli, incredibili. Poi abbiamo Umi, sempre con Lob IT050. La luna mistica, ovviamente, ragazzi, sono stampe nuove, se si vede lontano miglio. Poi abbiamo Guerriero M1. M1, Cattura Draghi, che, ragazzi, questo da Lob, il vero Lob, e il Lob anche in seconda, sempre vero. E costa una sbrega dei soldi, senza senso. Ce ne sono pochissimi sul Mark. E poi abbiamo Pesce Misairuzame, Ragge Tempesta, Uccello Karuma e Seale degli Aculei. La domanda mia è, in questo set ci stava Spadaccino di Fuoco, che nella versione inglese è super raro. Da noi, a causa di ritardi per quanto riguarda la traduzione, è arrivato solo successivamente. Secondo pack. E vediamo. Provo a fare il trick a 4, come gli attuali pack. Abbiamo Misaki, lo Spadaccino Leggendario. Panda Scatenato. Castoro Guerriero. Bellissimo. Che ricordi. Dissolvi Roccia. Ce l'ho tipo pur, sta roba. Drago con Scudo. Questa non l'ho mai vista. Ah, particolare. Uovo Mostro. Yami. Guerriero M2. Dai, dai, dai. Drago del Fuoco Nero. E come ultima carta. No, Drago del Fuoco Nero è l'ultima carta. Peccato. Ancora niente foil. Sarebbe bellissimo tirare fuori un Drago Bianco lì. Penso che volo. Allora, proviamo a fare il trick a 3. Perché non ho capito se la foil, nel caso, sta nello slot dopo la rara. Perché all'epoca o beccavi la rara o beccavi la foil. Però non so se hanno due slot differenti. Allora, andiamo a vedere. Qua abbiamo Drago Minore. Kumo Toko. Uccello Larva. Stella Corazzata. Lande Desolate. Armi delle Lame. Foresta. Che, ragazzi, all'interno di questo set ci stanno, se non sbaglio, 6 carte terreno. Paccatura. E... Germi Malefici. Doppia rara. Wow. Che comunque è un pull, eh. Perché, premetto, le rare non sono assicurate. Allora, andiamo con Pedoni Metallici. E qua dentro cosa possiamo trovare? Forza Riflessa, se non sbaglio. Poi abbiamo... Abbiamo Forza Riflessa. Ho un vuoto incredibile. Spade Rivelatrici, se non erro. E... Spade Rivelatrici e... Guardiano del Cancello. Pedoni Metallici, era? Andiamo a vedere adesso. Piccola Falena. Sì, se ovviamente io sono sculato come la merda e sbusto qualcosa. Allora, abbiamo Leo Cannone. Trappola Finta e... Bah. E, cioè... Ok. Sagghi il clown oscuro. Però, nel senso, un'altra rara non è quello il pull che voglio. Allora, secondo pack. E vediamo se... Se riusciamo a tirare fuori con... Uh. Oh, Gucchi, mamma mia. Comunque, ragazzi, non so se ci avete fatto caso, ma... Il set non è MRD. MRD è Metal Rider. Mentre in italiano dovrebbe essere scritto PMT, che è Pedoni Metallici. Vabbè, hanno fatto un po' da me. La stampa è un po' da merda. Vabbè. Oh, Gucchi. Trasforma Acque. Orco di Pietra 1. Grande Falena. Ve l'ho detto, che c***o! Ma... Sì. Ragazzi, io chiamo la carta e questa esce. È incredibile. Però, ragazzi... Eh... Niente. La folatura è come quella del... di Speed Duel. Un po' più bella. Però, comunque, sì. C'è scritto MRD. E niente. Vabbè. Primo pull portato a casa. Cioè. Ammetto che sarebbe stato più bellino avere una print decente. Però... Sì. Ho sbussato un guardiano del cancello nel 2023 da un pack di predoni metallici. Cioè. È una cosa che non ha prezzo. Mettiamola così. Vabbè. Poi abbiamo Trent. Lady Arpia. Bugort. E piccolo spadaccino da Ile. Comunque, ragazzi... Queste carte, attualmente, sul market stanno a prezzi insensati. Perché... La gente la caricate a prezzi insensati che sono quelli delle carte originali. L'unica cosa è che dovete considerare questo. Attualmente non c'è un venduto per queste carte. Perché questa, pagarla 40€, che senso c'ha? Nessuno. Considerate che ad agosto, quando usciranno i box e... Sta roba uscirà in maniera umana, caleranno tutte di prezzo. Quindi, se volete completare i set, aspettate un attimo. Io vi dico, se volete divertirvi, sbustatene qualcuno che ci sta. Cioè, il prodotto costa 20€. Neanche tanto. E poi, se volete completare i set o recuperare le carte che vi sono sempre piaciute della vostra infanzia, ma costavano troppo, aspettate invece a costo. Tutto qua. Allora. Eh, niente. Non so che altro pull chiedere qua. Perché... Diciamo che quello che volevo... Eh, mi è uscito. Allora, abbiamo Domangelo Silente. Demone Selvaggio. Doppio della Regina. Megasfera del Tuono. Castello Illusione Oscura. Big Rui Box. Ah, Maschera dell'Oscurità. Uh, i set attrezzi del bandito. Non è possibile una cosa del genere. Comunque, rara e foil, eh. Vorrei metterlo in chiaro. Comunque, ottima. Ottima carta. Questa per Got. Comunque, io, ragazzi, ve lo dico. Quando usciranno i box, recupererò una marea di roba da qua dentro. Assolutamente. Perché questa probabilmente me la comprerò con un euro l'una. E... Faccio un bel playset. Fermi, ragazzi. Prima di procedere con lo spacchettamento. Vi ricordo che se volete supportare questo canale, vi basta solamente iscrivervi e mettere mi piace. Anche commentare. Non dimentichiamocelo. A voi questa semplice azione non cambia assolutamente niente. Ma a me aiuta tantissimo perché mi permette di far arrivare questi video a tutta la community. E forse ad arrivare a 5k e introfinarlo. Sarebbe bellissimo, dai. Vi chiedo una mano. Grazie mille a chi lo farà. Allora, andiamo con Sovrano della Magia. E vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Allora. Uh, ho visto già una carta che si chiama Pavone. Diciamo, ce l'ho anche del set vecchio. È una merda. Perché quando mi dicono che le nuove carte non hanno idee, Io vorrei ricordare alle persone che Kazuki Takashi ha disegnato una roba del genere. Poi, ditemi che i Live Twin non sono idee geniali. H tipo a casa. Paragonata a lui, ovviamente. Poi abbiamo Ijen Bakudan. Ricetta dell'hamburger. Griggle. Poi abbiamo Corno dell'unicorno. A questo punto dietro ci potrebbe essere la foil. Ah. Mecha Chiocciola. Peccato. Prossimo pack. Ah, vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa. Comunque, me li ricordavo più scuri i pacchetti. E allora, non so stampati male quelli in coreano. Hanno, boh, la stessa tonalità. Allora, abbiamo Psyk. Poi, Grigion della Marea. Mai visto. Pesce metallico. Comunque, ragazzi, questo penso che è il... Non questo. Questi pacchetti sono gli unici set in cui potrete trovare così tanti gialli. Anzi, forse i primi quattro. Poi, la cosa fortunatamente migliora. Andando più avanti. Poi abbiamo Destino Finale. Tartaruga Granchio. Poi, Cyber Jara. Che bella, mamma mia. E non è foil. Adesso, qua dietro potrebbe esserci di tutto. Confisca. Peccato che è bandita. Però, comunque, vabbè, ci sta. Dai, super. È una rarità super del cazzo perché sembra quella di Rai Jackie dello Structo. Grazie a Dio non abbiamo sbustato Rai Jackie da Lob perché lì, veramente, poteva fermarmi sul cuore, eh. Avvenire una roba del genere. Più che altro perché, diciamo, negli album ne ho tipo una cosa come quattro in versione Lob vecchia. Allora, abbiamo Corno di Luce, Pesce Metallico, Lancia Demente, Uccello Regina che mai visto però ammetto che è proprio una bella carta. Mi ricordo un Dodo. L'abbiamo fatto estinguere noi, eh, 300 anni fa. Non proprio noi, sono stati gli olandesi. I cani degli olandesi però, vabbè, anche gli olandesi perché comunque si mangiano le uova. Poi, Zebra Oscura, Jigen Budokan, Rui Ran, Ratto Gigante e poi... La Sentinella Potente Foil, altra carta bandita. Ragazzi, io utilizzerò sto mucchio di Common per farci un mazzo misto, per giocarci così a casa con un amico. Vorrei sbustare qualcosa di foil che posso comunque usare. Attualmente questa. Vabbè. Prima di continuare, cosa molto importante. Test dell'odore. Diciamo che non sanno proprio di vintage. Allora, passiamo adesso a Servitore del Faraone e spero di trovare un bellissimo Ginzo qua dentro perché sarebbe incredibile. Perché quello nel mazzo misto mi piacerebbe giocarlo perché ovviamente... Sì, ce l'ho da PSV e da BPT, però non vorrei giocare quello. Vorrei una versione più economica. Allora, Grande Tumulto, Poi Dono dell'Elfo Mistico, Cacciatore di Spada, che questo da buttare nel misto ce sta, Rispetto del Gioco, Libro di Salomone, Cambio e... Uh, anche ordine in peraltro. Ragazzi, veramente? Tutte le carte bandite devo sbustare. Comunque, allora, se devo essere sincero, questa è quella che si avvicina un pochino di più alla vecchia print. Diciamo che questa, ok, è promossa. Si vede che non è la stessa, però è differente dalla print secret del L-C-W-W qualcosa. Vabbè, la Legendary Collection o di Yu-Gi-Gi-Joy. Allora, prossimo pack e proviamo a tirare fuori sto cazzo di Ginzo. Comunque, ragazzi, vabbè, i pull sono insensati, eh. All'epoca una roba del genere non poteva succedere e neanche, se non erro, nel Legendary Collection del 2010 o del 2015, sono sbagliati. Allora, abbiamo Radiazione Infinita, Lancia Incantata, Ombra degli Occhi, Invito al Sonno Oscuro, Jirokin Kawagata, Idolo dei Mille Occhi, Cyber Falcone, Risucchio Magico e... Dai, 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 dai... Ah, Anima dei Dimenticati. Comunque, premetto Rara e Foil. Impossibile nei setbacks. Ultimo pack di Servitore del Faraone e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Carabelle Bombardiere, Gido dalle Tre Teste, Ispezione, Soldato di Fuoco 1, questo ce l'ho, anche in collezione ma l'ho smontata, Indossatrice di Ali, Mister Vulcano. Bellini gli artwork però, se sente che è roba vintage. Guaritore di Vino, Recupera Mostri e... Pioggia Mese Cordiosa. Va bene. Passiamo adesso a Crisi Oscura, che a questo punto qua, dammi Exodia Negros Ultra. E quello non mi farebbe assolutamente schifo da sbustare. Allora, allora. Andiamo. Abbiamo Samurai Sasuke, Dark Scorpion, Meanea la Spina, Zona Antimagia, Contratto col Maestro Oscuro, Ordini di Attacco Finale, Sul Morale. Ujama Verde, mio padre. Attacco Combinato, Dark Scorpion e... Cavaliere Fiamma Oscura Super. Questo si può tirare in gotta. Poteva essere di meglio, eh. Vabbè, comunque un'altra foil. Non mi posso assolutamente lamentare, eh. Diciamo che un'altra Secret però sarebbe abbastanza top da tirare fuori, eh. Allora, Trascinato nella Tomba, Evocatore dell'Arsenale, Disperazione dell'Oscurità. Questa me la ricordavo nello Structure però. Vabbè, grazie dei token, prego. Scimmia Acrobatica, che questa compare in GX. E c'è proprio una scimmia che gioca tipo il mazzo scimmia, tipo Eldlich. E lo gioca contro... No, scusate ragazzi, non ve lo faccio la battuta, sto giocando di Flander. Ehm... Stavo dicendo, eh... Contro Jaiden. Poi, Arcidemone Soldato e... Niente, Arcidemone Torre della Morte. Dai, 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 l'ultimo pack, per favore. Una gioia. Allora, allora. Abbiamo Bacchetta del Silenzio. Poi, Guardiano Keyest. Qua ci sono tutte le carte Guardiano. Che giocava il protagonista, cioè uno dei personaggi di Yu-Gi-Oh! Nella saga dell'oricalco. Abbiamo Cestus di Daglia. Riproduzione magica. Arca di Scinato. Bacchetta dell'Occhio della Mente. Ryo Jama, che questa è buona come carta. Paura dell'oscurità. Questo sto sicuro che non c'è in DCR. Boh, mi sbaglierò. Ah, niente, Arcidemone Vilepedone. Allora, andiamo con gli ultimi tre pack di Invasione del Caos. E vediamo se tiriamo fuori qualcosa. Qua, un mago nero del caos. Te dirò. Non sarebbe male, eh, da tirar fuori, eh. Allora, abbiamo Polverino del Grifone. Crollo Spaziale. Salmon Sovrano del Terrore. Inciampare. Poi, Grande Koala. Cuccinella dal Dorso a Teschio. Assenza di Gravità. Matasa, che questo attaccava due volte. Sì, può effettuare una seconda battle phase. E poi... Ah, Lucerto la Folata. Comunque, ragazzi, che belli questi artwork. Mi riportano proprio indietro la mia infanzia. Eh, vabbè, eh... Ragazzi, il Konami venderà uno sbrego di questi prodotti solo per fanboismo. Ma tanto è così e lo sappiamo tutti. Ed è giusto così, eh. Allora, abbiamo Recupero. Lucerto la Folata, di nuovo. Il set è incredibile, enorme e tu mi dai le stesse common. Crollo Spaziale. Fiore Contraerea. Cavalletta Pungente. Nuovo Insetto. Serpente Marino e Guerrero dell'Oscurità. Pillola dell'Ultra Evoluzione. E... Ah, che merda. Non volevo questa. Vabbè, un'altra secret. Invasore dell'Oscurità. Se non sbaglio, anche questo è uscito in Speed Dual Secret. Dai, andiamo con l'ultimo. E speriamo in un'ultima gioia. Dai, un bel mago nero del caos. Allora, abbiamo Recupero. Gigantes. Anche questo si può giocare in Gotti, in terra. Poi Confine di D. La Cosa nel Cratere. Inciampare. Trego nel Caos. Buono. Ah, è vero. Qua c'è proprio il BLS. Poi, assenza di gravità. Mataza. E per concludere, vabbè, un'altra foil. Sono contento. Giovan Angelo Custode. Però, premetto, il set è enorme, è incredibile. C'è roba fantastica. Però, comunque, nel senso, quanta roba abbiamo trovato in tre box. Praticamente, abbiamo comunque tre secret, di cui due molto importanti. Tre ultra e due super. Quindi, alla fine, mi può andare anche bene. Detto questo, io adesso passerei a questi tre pacchettini. Perché all'interno, oltre ad esserci le promo uguali in ognuno dei tre, ci sta una prismatica. E è da capire quale abbiamo trovato. Andiamo col primo. Non spoileriamocelo girandolo, perché sennò si capisce quale delle... se c'è più che altro, una divinità o meno. Abbiamo Obelisco il Tormentatore, ovviamente, con il back dello stesso colore e senza scritta Yu-Gi-Oh. Poi Slifer, il Drago del Cielo, bellissimo. Drago al lato di Ra, stessa cosa. Poi abbiamo il Drago Bianco, che secondo me hanno scelto l'arte proprio più sbagliato che c'era. Poi il Mago Nero, stessa cosa. Il Drago Nero. E per concludere... Oh, ragazzi, ragazzi. È brutto da dire, però... È bellissimo. E mi è uscito anche NM, fortunatamente, perché da come so a molti è uscito già smentato. Eh, sì, ragazzi. Logo del venticinquesimo, tanta roba. Ragazzi, come comprare un fanboy? Così, non serve assolutamente altro. Andiamo col secondo. Vabbè, le promo ovviamente sono le stesse. E l'ultima è... Slifer. Sì, quanto è bello. No, ragazzi. Basta veramente poco. Ed è anche... Questo è NM. Che culo! Che culo incredibile! E quindi, se non vado errato, qua dentro ci dovrebbe essere il Mago Nero. Perché gli altri tre box li ha, ovviamente, ricevuti Luca Gaming Tonight. Link del suo canale qua sotto in descrizione. Perché, ovviamente, sta morendo. Quindi è necessario fare un piccolo sponsor. E se non erro, lui ha ricevuto Obelisk Ra e il Drago Nero. Quindi qua dentro ci dovrebbe essere il Mago Nero. E con questo confermiamo il fatto che, in un case, ci stanno tutte le promo. E quindi, se le volete tutte, vi basta solamente comprare un case. Che poi non costa neanche tanto. Tipo 120 euro, una roba del genere. Allora, andiamo a vedere. What? A parte che è uscito NM e... E volo. Però... E... Niente, la mia teoria sfuma totalmente. Aspettate però, io ne ho altri tre da aprire. Li apriremo in un video futuro. Se questo video raggiunge, 50 mi piace. 50 like e ve li apro subito, eh. E forse uno di quelli si è mischiato con uno di questi. Probabile. Quindi, diciamo, la teoria è ancora balida. Perché 5 su 6 mi fa strano che... Cioè, ne abbiano cannata una. Mettiamola così. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito in questo viaggio nel tempo lungo 25 anni. Per quanto posso dire che mi faceva schifo, comunque, ragazzi, sono la mia infanzia. Quindi, a prescindere se ce ne avessi avuti altri 10, li avrei sbustati tutti. Fortuna ne abbiamo tre. E gli altri set arriveranno. Forse. Vedremo. Senza contare poi che usciranno i box. E quelli, ragazzi. Quelli si sbustano tutti. Cari Game Corner, ascoltami. Io quei box li voglio tutti, eh. Non tre io e tre Luca. Tutti li voglio. Tutti? Porca troia. Ti faccio 6 video sponsorizzati. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.